E qui tutte e due, sia Jumanji che Tenebra, stanno prendendosela con Vlad. Ma chi è? Oh mio Dio! E mi sa che sia il contadino che abbiamo visto la scorsa settimana. Esatto, proprio colui a cui Jumanji ha rubato frutta e verdura. E' arrivato dalla campagna alla XIV, vediamo cosa fa! Oh, TDT tremenda! Eh ma altro che contadino, altro che contadino! Ha steso Jumanji, ma non è finita qui! La rincorsa era il Big Splash! Incredibile azione! Attenzione perché mi arriva in cuffia la notizia che questo mastodontico wrestler si chiama Tyr e devo dire che è un nome appropriato alle sue forme fisiche, è davvero mastodontico, è davvero incredibile! Noi qui a vederlo a pochi passi del ring è davvero un qualcosa di eccezionale! Più tanto l'azione continua, Tyr ne ha per tutti, cioè ne ha per Jumanji! Mentre Blanco ne ha per tenebra! Non credo assolutamente che entrambi si siano alleati però, giusto? Penso proprio di no! Tyr si sta vendicando per quello che è successo le scorse settimane! Esatto, lo abbiamo visto protagonista di un promo tempo fa! Intanto vediamo il replay, ecco qui! Guarda che DDT bellissima, davvero! E poi la Big Splash! Che stende Jumanji! Che stende Jumanji!